Siamo a San Giuseppe Vesuviano, incontriamo Roberto Duraccio che è il presidente dell'associazione IAM Ripartire Insieme e che fa autore e promotore di un'iniziativa davvero importante e straordinaria in una città come San Giuseppe che ha ben poco da offrire, la seconda rassegna dell'Aprilibro, una rassegna letteraria che vede oggi ospite Antonio Menna con il suo ultimo libro, Tre Terroni a Zonzo, Lasciare Napoli o Restare, della Sperling e Kuffer Editori. Allora Roberto, come nasce questa iniziativa e il successo dell'anno scorso vi ha invogliati ancora di più a realizzare la seconda? Sicuramente, noi una piccola premessa, riteniamo la cultura, l'arte in tutte le sue manifestazioni un motivo di rivalso di questi territori. L'anno scorso abbiamo anche abbinato la presentazione di libri a una mostra con un autore locale, un artista locale perché crediamo che partendo dall'arte sotto tutte le sue manifestazioni, in questo caso l'espressione letteraria questi territori possono avere un riscatto rispetto a quello che hanno subito in questi anni. Certamente. Noi vogliamo ricordare anche i prossimi appuntamenti perché anche sabato prossimo e sabato 27 aprile ci saranno altri due grandi scrittori. Questa edizione di Apri Libro vede, oltre ad Antonio Menna, la partecipazione anche di Pino Imperatore e di Marotte con due lavori che sono eccezionali. Il primo, quello là di Giuseppe Marotte, i bambini osservano muti che il titolo già mette in evidenza quale sarà il contenuto di questo lavoro. Non esprimo altro per lasciare un po' di curiosità e l'altro è ben tornato in casa esponita con Pino Imperatore che non credo che abbia bisogno di nessun tipo di presentazione. Tentiamo in questo paese di mettere insieme quelli che sono ancora rientrando nel lavoro di Antonio Menna quelli che hanno voluto restare qui a Napoli, in provincia di Napoli. Nonostante le difficoltà, nonostante quello che ci possa essere contro in questi territori, però noi siamo la parte che resta. Le forze buone che restano. Con Antonio Menna, qui a IAM, ripartire insieme, l'associazione che ha promosso Apri Libro, seconda edizione, tu sei il primo ad aprire i giochi, Tre Terroni a Zonzo. Lasciare Napoli o restare? È un bell'interrogativo Antonio. Sì, è un interrogativo che io lascio tale in copertina e anche per tutta la narrazione, nel senso che non sono in grado di dare una risposta a questa domanda, né ritengo che ci sia una risposta giusta per tutti. Però è una domanda che ci accompagna per tutta la vita. Chi se ne va si porta un lutto permanente, questa distanza che diventa un pensiero irrisolto verso la propria città. Chi resta è anche lui viene accompagnato a una domanda, cioè che cosa sarebbe stato della mia vita se me ne fossi andato. Il libro è una narrazione, è un romanzo, è una storia di tre ragazzi che la sera della laurea si guardano e si fanno appunto un'altra domanda che ci siamo fatti tutti, cioè adesso? Adesso che facciamo? Adesso che succede? Due di loro non hanno dubbi, uno se ne va a Londra e un altro se ne va a Milano. Fanno questa scelta perché secondo loro Napoli non ha alcuna possibilità di dargli un futuro, una possibilità. Il terzo, anche forse perché si chiama Diego Armando e quindi ha questo nome che un po' lo segna, diciamo, nel legame con la città, decide che vuole a tutti i costi rimanere. Il libro racconta la storia dei primi due anni di questi tre ragazzi nei loro percorsi molto diversi dopo la laurea. I due che se ne vanno si realizzano, trovano la loro strada, lavorano, lavorano con successo, hanno delle chance, delle opportunità. Quello che rimane ha una vita più laboriosa, più faticosa, si scontra con tutte le trappole che il mercato del lavoro fa conoscere ragazzi in Italia, a Napoli in particolare, però alla fine trova anche lui una sua strada. Non svelo il finale, ma c'è, come dire, se posso parlare di una morale, c'è una morale nel fatto che tu te ne vada o che tu resti, c'è sempre un prezzo da pagare. Non c'è una scelta giusta, non c'è una scelta definitiva. Se rimani paghi il prezzo di una realizzazione che deve rimodulare il tuo sistema di valori. Se te ne vai, c'è questo filo che ti collega alla tua città, un filo di nostalgia, forse anche quasi più della nostalgia. Qualcuno ha definito la saudate, comunque questo sentimento irrisolto, questo amore infelice per una città che si è perduta ma che non se ne va mai completamente dai propri pensieri. Il titolo di una raccolta di Cesare Pavese era lavorare stanca, ma lavorare gratis è uno sputo in faccia. Hai scritto tu nel tuo editoriale e su fanpage che ho avuto modo di leggere. La riflessione era questa ed è una riflessione che vale molto per Napoli. Si dice che a Napoli non c'è il lavoro, io sostengo che a Napoli non c'è lo stipendio. Perché in realtà tutte le persone che conosco, amici e amici della mia generazione, di quelle che sono venute dopo, lavorano tantissimo. È gente che si fa in quattro, che fa cinque, sei lavori. Però sono tutti inseriti in contesti curiosi, stage, borse di lavoro, borse di formazione, apprendistati, tirocini. Una serie di definizioni che servono sostanzialmente a giustificare il fatto che lavori, ma non ti pagano. Ora io mi sono chiesto se io lavoro vuol dire che servo, se servo vuol dire che produco. Se produco e però non ricevo niente in cambio, chi se ne piglia i miei soldi? Da qualche parte resteranno. Questo è un nodo su cui bisognerà prima o poi fare una riflessione. Perché se c'è una persona che lavora e non guadagna, vuol dire che c'è qualcuno che guadagna e non lavora. Quindi c'è un'ingiustizia. È un'ingiustizia che va affrontata e risolta. Perché è un furto ai danni di intere generazioni. Allora, tre terroni a zonzo. Lasciare Napoli o restare di Sperling e Kuffer. Il secondo lavoro di Antonio Menna. Corriamo tutti in libreria a acquistarlo. Adesso ci godiamo questa presentazione. Un saluto ad Antonio. Grazie, grazie a tutti. Ci vediamo al prossimo libro a questo punto. Un saluto ai spettatori di Rottipo Italia. Assolutamente, io conosco e già mi sopporto. È la seconda volta che mi sopporto. Speriamo ci sia una terza. Saluti a te.